Mi chiamo Guglina Luisa, vengo dal Belgio, nata in Sicilia, ad Enno, ho 65 anni. Da piccolina ho sempre avuto problemi di denti e sono venuta qui in Moldavia. Ho conosciuto questa clinica tramite internet. Le parole del dottor Palmas mi hanno fatto essere sicura di quello che facevo. Non ho avuto tanta paura di venire qui e tutto è passato bene. Diciamo che tutto quello che ho vissuto, tutte le mie preoccupazioni sono passate. E ho ritrovato il sorriso grazie a questo dottore. Sono all'ascolto, ti dirigono verso le cose che devi fare, non c'è attesa. Diciamo che sono contenta di essere venuta qui. Si dovrebbe rifarlo, lo rifarei. La mia vita ha cambiato totalmente dopo questo percorso che ho fatto qui in Moldavia dal dottor Palmas. E ne sono felicissima.